Se voglio pensare ad un progetto, mi lego al vocaletto precedente. Metto insieme colori e materiali. Non vado alla natura dei materiali. Prima metto insieme i colori, tutti i colori che mi possono portare alla realizzazione di quello che ho in mente. Poi penso alla distribuzione dei materiali in virtù di quello che vorrei andare a realizzare. Poi magari penso anche ad un acquisto se mi è necessario. Ma spesso riesco a creare dei progetti sensati con quello che ho. Ma è vero che ho molto. Ma si può fare. Perché non è la natura del filato sempre che può determinarmi... Aiuto a me, vuole... Che mi può determinare poi la stagionalità del capo. Non se lo uso magari per alcuni particolari. Vuoi in un capo o accessorio pensato per l'inverno e autunno. Vuoi per l'accessorio pensato per la primavera, estate. Ma adesso siamo in primavera. Ma è come essere in inverno? È freddo. Le temperature sono bassissime. L'aria è gelida. Al sole si sta bene solo se non veniamo colpiti dal vento. E quindi servono quei capi intermedi. Che però ci devono dare gioia. Ma almeno io così la intendo. Il fare, la maglia, ma anche il vestirmi. E ci devono dare il giusto tepore. A presto, eh? Ciao!